Prima a partire questa mattina è stata una squadra di terra del soccorso alpino e speleologico dotata di sci per proseguire le ricerche dei quattro escursionisti dispersi sul Monte Velino. Ricerche che erano state interrotte per tutta la giornata di ieri a causa del maltempo. Ormai da nove giorni non si hanno più notizie dei tre uomini e della ragazza, tutti di Avezzano, che si erano recati in montagna per una escursione. Tonino Durante, 60 anni, Gian Mauro Frabotta, 33 anni, Gian Marco Degni, 26, studente e la sua fidanzata Valeria Mella, di 25 anni. Una fitta nebbia questa mattina ha impedito agli elicotteri di decollare. Le squadre di terra del soccorso alpino sono salite in quota con gli sci sull'area di Valle Maielama. Successivamente sono partite altre squadre di terra del soccorso alpino e della Guardia di Finanza impegnate a scandagliare l'area di Valle Genzana, un po' più in basso rispetto al luogo interessato dalla Valanga. Nella tarda mattinata le migliorate condizioni meteo e la visibilità buona hanno consentito agli elicotteri di decollare e trasportare in quota altre squadre del soccorso alpino, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Polizia, dell'Esercito, dei Vigili del Fuoco, con l'asiglio di Tressona, Reccomanuali. Oggi pomeriggio alle ore 18 è prevista una riunione in prefettura all'Aquila del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Secondo le previsioni meteorologiche, nei prossimi giorni le temperature saranno in rialzo e si spera che ciò contribuisca a svelare qualche traccia della presenza dei quattro dispersi.